Arrivato. Dunque, speriamo che la segnalazione del Procuratore nazionale antimafia non rimanga lettera morta per altri dieci anni. Grazie, Presidente. Grazie. La collega Ferranti chiedeva di intervenire un attimo la relatrice prima, Caparini, poi... Sì, Presidente, gli emendamenti sono tanti, come vede, quindi in realtà è un tema che era sorto in discussione, ma poi non è stato più riproposto quando abbiamo fatto un comitato di nove, quindi io proporrei l'accantonamento di questo emendamento per ridiscuterlo e verificarlo al prossimo comitato di nove, domani. Grazie. Beh, se nessuno si oppone, lo accantoniamo, sì. Caparini, lei voleva intervenire, anche se è accantonato, quindi prego. Apprezzo lo sforzo da parte della Presidente, in quanto anche noi abbiamo proposto una modifica della legge che è in commissione e va proprio nella stessa direzione dell'emendamento della collega. La ringrazio. Quindi passiamo all'8.1, Sarti, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Baruffi, Zan, Caruso, Qualcun altro? Non mi pare. Ah no, lì abbiamo Caruso, Piazzoni, Ghizzoni. Varlassi che si è votato? Ah sì. Bene.